Speravo che non arrivava, però è arrivato il momento che bisogna non calare sotto questo aspetto. Noi dobbiamo insistere a giocare, io sono sempre più convinto che in questo momento qua ancora che la squadra deve cercare di giocare a calcio. Noi dobbiamo farlo perché abbiamo questo tipo di caratteristiche, però è logico che sotto questo aspetto non deve mancare determinazione e aggressività. Per esempio, è più facile fare esempi grossi, vediamo la Juve che a livello tecnico sia una grandissima squadra e gioca a palla a terra, però credo che sia il numero uno nell'aggressività, nel rubare palla, nell'aggressività alti. Perciò non vuol dire che giocare a calcio, a prescindere dal fatto di essere aggressivi, essere indeterminati, essere cattivi, non vuol dire, perché ci sono le due fasi di gioco, una fase quando si propone gioco, un'altra è quando bisogna andare a recuperare palla. In questo momento per me noi siamo mancati un po' nel recupero palla, nel cercare di andare a rubare palla all'avversario. Reggio Emilia si è visto chiaramente che quando noi partevamo l'azione arrivavamo spesso nella palla o diciamo quasi sempre noi. Quando l'avevamo gli altri siamo stati poco aggressivi, poco determinati e bisogna migliorare.